Il 16 maggio 2013, Maiko Lagazzi, Giacomo Bonaventura e Marco Sau ricevono la prima convocazione in nazionale. Il commissario tecnico Cesare Prandelli li inserisce nel gruppo che dovrà affrontare in amichevole San Marino il 27 maggio a Bologna e poi sfidare la Repubblica Ceca il 7 giugno a Praga in un match valido per le qualificazioni mondiali. Sono davvero felicissimo ed emozionato, dichiara Sau. La convocazione arriva inaspettata, ma oggi realizzo il sogno che portavo avanti fin da bambino. Proprio nel match del Dallara di Bologna contro San Marino, Sau e Bonaventura hanno il privilegio di esordire in nazionale. Il centrocampista Atalantino viene schierato titolare da Prandelli e dopo sei minuti va vicino al primo gol in azzurro. Al quarto minuto del secondo tempo, proprio Bonaventura lascia il posto a Sau in una singolare staffetta tra debuttanti e anche l'attaccante del Cagliari sfiora il gol nei minuti finali sugli sviluppi di una traversa di Balotelli. Anche se quel giorno per loro non è arrivato il gol, la gioia della prima chiamata e dell'esordio in azzurro resta intatta per entrambi. azzurro. 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 azzurro.